Quattro mesi in solitaria, 5200 km in bicicletta, Canoa è in arrampicata, quindi l'arrivo a Santiago del Cile, dopo aver attraversato il Peru. Danilo Callegari, 28enne di Bannia con la passione per gli sport estremi, ha presentato la sua nuova sfida, che lo vedrà impegnato a partire dal 4 ottobre, quando caricherà in aereo la bicicletta e il necessaire per la sopravvivenza. Ad ostacolarlo saranno non pochi fattori, in primis la solitudine, ma anche l'altitudine, i venti forti, la quota e la difficoltà a dormire e a reperire cibo. Caratteristiche che fanno di questa sfida un evento straordinario e che rendono l'idea del personaggio. Danilo Callegari ha tante qualità, quello di essere un ragazzo umile, un ragazzo d'oro, con delle qualità umane straordinarie, pare anche le sue qualità fisiche. Quattro mesi di avventura estrema, fatta tra l'altro spendendo pochissimi soldi, la dimostrazione che la determinazione porta a fare davvero grandi cose. Nell'epoca del colesterolo, della sedentarietà, dalle malattie perché la gente non si muove, avere un ragazzo che non ha di questi problemi, che ha fatto una preparazione fisica durissima, che farà quattro mesi praticamente in totale solitudine tra canoa, biciclette e deserti, beh, devo dire che è un esempio per tanti ragazzi. E in effetti questa non è la prima impresa di Callegari che ha valicato negli ultimi tre anni due volte l'Islanda e una l'India e che non mancherà di tenere aggiornati i suoi aficionados uploadando video e foto su www.danilocallegari.com ma anche su YouTube, Facebook, Twitter e Google+.